Manca pochissimo a questa attesa partita tra il Giuliano e il San Nicola, all'arbitro dell'incontro, il signor Lupo, come scritto su Facebook, il nostro grande amico del Giuliano, di Radio Caserta Nuova, tantissime volte ospite nei nostri studi, grandissimo amico nostro, signor Lupo. Salve, buongiorno a tutti, con l'occasione per salutare a tutti quanti. Un grande saluto al nostro Presidente Salvatore Sessieri che in questi momenti sta meditando sul da farsi per quanto riguarda le nostre sorti, però penso che la sua tenacia, la sua capacità di uscire di nuovo a portare il Giuliano a una parte. Questa è una bella vendita per questi ragazzi del 98, bellissima squadra, sia della squadra di prima, questa non l'ho vista ancora, ma per stare qua penso che sarà una bella cosa. Spero che si divertono e facciano una bella cosa e poi a giugno avremo questo torneo importante in modo da poterci far si diversare con il nostro grande amico Mori Fentaccio che ci verrà a riprendere in tutte le occasioni. Un saluto a tutta Radio Caserta Nuova, ci vediamo più presto dei vostri studi.